Siamo qua, passo a squadra sordi. Il team è localizzato. Battle Royale, indica un punto di lancio, conduci tu il team. Tratto taglialo prima, trattato sciacallo, trattato sciacallo, trattato sciacallo. Trattato sciacallo. Trattato sciacallo. Ignorate quello che ho detto. Non mi sto buttando lo sciacallo arancione. Eh? Cassa di scorte iniziata, la moglie in sicurezza. Elimina tutti i bersagli nell'area operativa. Movimento! Macchina da me. Oh, là dentro, eh, raga. Nemici nell'area! Oh, là dentro, c'è la mitraglietta, dai. Comparare lì, raga. Non riesco a toccare come... Contacci, porok, cazzo la cucina stavo. C'è un cazzo, è un cazzo! Compagno finito! Chi sopravvive lì, torna in prima linea. Compagno finito nel Gulag. Chi sopravvive lì, torna in prima linea. ma io non ho una cazzo di arma buona chi sopravvive lì torna ai primarini soldato nemico in arrivo compagno calito tornerà alla base calito tornerà al capo picco gente sopra porca madonna Compagno caduto Tornerà alla base No, che è quello, come cazzo ha fatto? Ha ammattato UAV nemico in volo Vaffaculo Hanno conciato per le feste il vostro compagno Lo rispediamo alla base È tutto nelle tue mani Vinci Ma dove cazzo sono questi? Lì sento camminare da tutte le parti State perdendo terreno Vabbò io me ne vado, sono in quattro Stai da solo, stai Eh sì Lo sta arrivando pure gente Non posso prendere nemmeno la macchina Non posso prendere nemmeno la macchina Obiettivi aggiornati, passare alla prossima area. 5.000 Obiettivi aggiornati, passare alla prossima area. Ne rianimo prima uno, così abbiamo più soldi. A viaggio. Viene a casa, viene a casa. No, prendiamo più soldi. Ci sono armi. Fa qualche partita e poi va a letto, ok? No, perché te faccio io? Posso giocare? Niente. Niente. Mi casetto, niente. Qua è pieno di armi. Equipaggiamento letale, qui. Stai andando alla cassa? Eh. Ok, allora, prendi la cassa che rianimo subito un'altra. Tutte le casse di scorte trovate. Ottimo lavoro. Stai andando. Da me. Venite da me che ci sono armi, eccetera eccetera. Chi è? Vivo. Andiamo da loro? Ok, viaggio? Sì. Questo è passaggio. Ci sono anch'io. Farò il passaggero. In movimento. Mi butto sulla bandierina? Un tratto di cognizione marcato. O ci prendiamo l'altro elicottero? E camminiamo con due elicotteri? No, non siamo. No, non siamo qua. No, non siamo qua. No, non siamo qua. No, non siamo qua. No, siamo qua. No, siamo qua. C'è gente, hanno preso la bandierina. Movimento. Lancio d'equipaggiamento alleato in arrivo. Spariamo? Ampenniamo avanti. Quindi già. Sono alzata, l'altra. Però sei già? Siete già? Gli assi in arrivo. Spostamento della zona sicura. La zona sicura. non vedo da dove da qua movimento movimento 61 8 ecco delle protezioni 2 avendo in volo mettiti la carezza da dove vi ho lasciato le corazze qua ce l'ho ce l'ho ma dove altro non ho sparato ancora mi stanno sparando ma non riesco a vederli no da la eh tu vado davanti mi colpisco da sopra da tutte le parti stanno sparando no cazzo sono rimasto bloccato ma ecco ma ci hanno preso da tutte le parti rag porco picci no vabbè eravamo circondati in prima linea se perdi è finita vanno fuori o conquista l'obiettivo stai tornando in prima linea te lo sei guadagnato che palle ho c'è un contratto ricercato cazzo ce l'ho Una giacchinata mi è arrivata Guarda intorno alla finestra, visto che c'è una cosa... Designazione di ricercato accettata Ora sei un bersaglio Mi metto alla guida Questa è la scuola Questa è la scuola Questa è la scuola Questa è la scuola Non ammire Prende l'arbe Questa è la scuola gas in arrivo, nuova zona sicura contrassegnata vedo io Mi metto a la bulla. Tutto a posto. Andate all'equipaggiamento se riuscite, ma me qua mi stanno sparando. Arriva il gas! Ok. Imi metto a posto. Imi metto a posto. Imi metto a posto. Mi metto a posto. Imi metto a posto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccomi, eccomi. Mamma mia. Com'è? Ho pareti altre munizioni. Buttala dopo. Piastri. Via qua, vedete qua, vedete qua, vedete qua che c'ho i piastri. Basta è avuto. A chi sparano? No, non ce la faccio. Qua su c'è gente. Allora, stiamo salendo noi. Gente dentro? Aspettate, siete da soli? Siete due? Sì, io sto da solo qua, fate recuperare. Mi recupera. Bersaglio marcato. Attaccare. Qui, Stryker 3, ricevuto. Attacco in corso. Una lotter route. Ma ragà, ho finito in munizione. Alla nuova zona sicura. Alla nuova zona sicura. Eh, ce l'ho io, via qua. Mi puntano. Oh, ma capisci. Guarda quanto. Assist uccisione. Ma non mi ha dato che mi ha nient'ato. Ah sì. Ho marcato degli equipaggiamenti. Tu state dentro la casa, regà? Sì. Abbiamo i soldi per rianimare a viaggio. Vallo a rianimare subito, così si prende il suo equipaggiamento. Vedo la stazione medica. Ah, ok, certo, ce l'ho pure io. Ma dobbiamo comprare di nuovo l'equipaggiamento per Fantasmo. Eh, se dovrebbero riviolarmi. Ma chi spari? Siamo nella zona sicura. Occhio ai nemici. Movimento! Ma che c'è il nome? Alto. Ok. Vittato. A terra. Buona. Ragazzo, sta a cecchino. Oh. Sono due cecchini, va? No, mi ha preso a me, mi ha preso. Sei safe? UAPI, nemico, imbolo. Mi ha preso a te, mi ha preso a te, mi ha preso. Eh. Come sta? F***a. Eccolo, eccolo, ho visto. A terra. Ok, quello sicuramente viene ucciso dalla safe. C***o. C***o. Ma tu no? Movimento! Come sta? MFG. Bombardamento di precisione, alleato in arrivo. Ok, uno me l'ha dato ucciso. E l'altro dove c***o è andato? Qua giù, è qua giù Eh, ma staranno salendo dalla strada Movimento, come non detto Ok Cecchino, cecchino Qua giù, qua giù Guarda, non cingata, guarda là Sono safe, se riuscite Biagio, biagio Preso, preso No, sono vagato Preso, a terra, ho fatto sì, correga Mi cedito, per noi, soldato No, porca ufficio No, no, sono vagato No, 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 no Porca troia, ufficio Porca ufficio No, no, no No, no, no